Paura di privarli di qualcosa che gli serve e cediamo nelle corzioni, a volte sono più grandi di quelle di genitore, perché poi loro non arrivano e non avrebbero arrivato. Ecco che allora stravolgere il nostro piatto, iniziare da quello che ha un contorno per farlo diventare una prima portata. In generale è un crudo, per la sua parola di bambini che sanno masticare, veramente un svezzamento un po' più difficile, anzi è impossibile, penso che non hanno i vestiti. Per iniziare dal crudo, perché il crudo? Perché il nostro corpo deve arrivare a tutto quello di cui in realtà in quel momento abbiamo bisogno. Sono tossidanti, sono le gamine, sono le fibre, sono tutto quello che può contenere, non qualche cosa di variegato. Altro lavoro che vedo in giro è che io stesso l'ho fatto all'inizio. Un piatto così, che mi piaceva un sacco, piatto di verdure, belli pieni, tutti i colori, perfetto, e peccato che il suo stomaco è grande così.